L'America Latina deve coordinare gli sforzi per far fronte al dramma dell'emigrazione che si è incrementata in modo mai visto e per promuovere una cultura della legalità e del dialogo politico, indispensabile per raggiungere la pace. Papa Francesco lo ha detto incontrando in Vaticano circa 200 membri dell'Organizzazione Internazionale Italo-Latino-Americana, IILA, in occasione del cinquantesimo anniversario dell'Istituto, impegnato in campo culturale, scientifico e della cooperazione allo sviluppo. Innanzitutto bisogna individuare le potenzialità dei paesi dell'America Latina, ricchi di storie e risorse naturali, di gente buona e solidale, eppure segnati dall'incremento della povertà e dallo sfruttamento dell'ambiente. Serve quindi un'analisi della realtà, delle persone concrete e delle necessità reali. Poi, ha suggerito il Papa, il continente deve coordinare gli sforzi per far fronte al fenomeno dell'emigrazione che è sempre esistita, ma negli ultimi anni si è incrementata in un modo mai visto prima. La gente cerca nuove osi, spinta dalla necessità, ma in questa ricerca molti subiscono la violazione dei propri diritti. Bambini e giovani diventano vittime della tratta e cadono nelle reti della criminalità organizzata. E quindi è necessaria una politica congiunta di cooperazione, perché l'emigrazione è un dramma di divisione. Si dividono le famiglie, i figli si separano dai genitori, si allontanano dalla terra d'origine, e gli stessi governi e i paesi si dividono davanti a questa realtà. Bisogna infine promuovere una cultura di dialogo. Molti paesi, che attraversano momenti difficili a livello economico e politico, ha ricordato Francesco, lottano per realizzare una società più giusta, promuovendo una cultura della legalità, che contrasti la corruzione e la cattiva distribuzione delle ricchezze. Il dialogo politico, infatti, è essenziale sia tra i diversi membri di questa associazione, sia con i paesi di altri continenti, in modo speciale con l'Europa. Dialogo, che si chiama anche Diplomazia, ha concluso Papa Francesco, strumento fondamentale di solidarietà per raggiungere la pace. Il dialogo è indispensabile, ma non il dialogo tra sordi. Si richiede un atteggiamento recettivo che accolga suggerimenti e condivida aspirazioni. Grazie. 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 Grazie.